Buonasera a tutti, faccio un attimo le veci di Laura perché purtroppo, o meglio per fortuna, è impegnata in un'intervista, quindi vado a presentarvi Lorenzo Morandotti che è il prossimo poeta. Lorenzo Morandotti è nato a Milano nel 66, dal 97 è redattore dalle pagine culturali del quotidiano Il Corriere di Como, abbinato al Corriere della Sera, ha pubblicato il saggio Il sogno condiviso, è dedicato all'opera poetica di Emanuele Occelli, Patrizia Valduga e Mario Marchisio. Ha pubblicato poi le raccolte di brevi prose, aforismi, alberi neri, del 94. Tra le altre pubblicazioni troviamo A proposito dell'Ozio, Lieto Colle, del 94, con otti disegni di Max Marra e Seconda persona, del 97, con una fotografia in bianco e nero di Leonardo Genovese. Le sue poesie, già sparse in varie placate edite da Dialogo Libri e Pulcini Elefanti, sono nel volume Respirazione, Manni del 91, con prefazione di Vincenzo Guarracino e in numerale Edizioni Litos di Como del 2001, con una litografia dell'artista Silvano Bricola. Più di recente ha composto la raccolta Nero e Oridice, che verrà pubblicata entro il 2013. Vi lascio la parola a Lorenzo Morandotti. Buonasera, io ho pochi testi, quindi vi intrattengo per poco tempo. Avrei, non avendo dei testi specificatamente legati al rapporto poesia-scienza, come qui il tema del consesso. Mi sono permesso di fare una brevissima riflessione all'inizio che vi propongo, non avendo assolutamente i titoli né dal punto di vista letterario né dal punto di vista scientifico, per poterlo fare, ma comunque lo faccio. Non avessi titoli, li si saprebbe, ma insomma adesso ve la dico tutta quella che penso io. Fatti non foste a vivere come bruti, si diceva. E mi ha sempre colpito questo binomio, ovviamente con un'etimologia molto azzardata, assolutamente poco veritiera, cano-scienza, cioè il cantare, arma virunque cano, eccetera, eccetera, e la scienza. L'abbinamento quindi non è assolutamente arbitrario per quanto mi riguarda, anzi, non lo dico io, lo dice un grande interprete come Vittorio Sermonti, la poesia sempre ci appare e può essere considerata la nostra amica di tutti i giorni, perché ha questo suono battesimale, ha questo suono così limpido, pur essendo continuamente oscura, pur essendo continuamente un oggetto che sfugge alle interpretazioni, e quindi è una continua sfida ermeneutica. Così come anche il creato, il cosmo, la realtà, la scienza ce lo insegna, è qualcosa che è continuamente piena di mistero e proprio per questo ci invita alla conoscenza. Questa è la banalità che volevo in qualche modo buttarvi là come seme di riflessione per quanto riguarda questo abbinamento che appunto è, in realtà, andare alla vera matrice delle cose. Ci sono alcuni argomenti che in effetti mi stimolano molto per quanto riguarda l'ambito delle scienze, che in qualche modo possono essere riferiti all'ambito letterario. Uno di questi, ed è una conquista made in Italy, diciamo così, è il concetto dei neuroni specchio, che in effetti già in sé mi sembra qualcosa che possa contenere, non dico una poesia, ma addirittura più di un romanzo per quanto è denso di collegamenti e probabilmente di altre conquiste della scienza che verranno. E poi, per quanto mi riguarda, sempre c'è il discorso molto più metafisico, però la storia ce l'insegna molto più reale dei neuroni specchio che la sparizione stessa del genere umano e la possibilità del genere umano di postulare una propria, in qualche modo, dimensione ulteriore. Vi cito solo, per farla breve, un autore come Michel Houellebecq che nei vari romanzi che ha pubblicato dagli anni 90 a oggi postula proprio la possibilità di un superamento della umanità intesa come commissione di mente-corpo, quindi attraverso la clonazione, attraverso altre dimensioni, è possibile in qualche modo postulare questa situazione e questo mi sembra abbastanza stimolante. Solo questi gli argomenti che secondo me si potrebbero porre alla riflessione. Concludo appunto leggendomi alcuni testi che nulla hanno a che fare con questo binomio, se non per appunto il discorso che facevo all'inizio di una persistenza dell'oscurità della poesia come mistero che va continuamente sondato e che allo stesso tempo però ci risulta sempre una cantilena in qualche modo vicina al nostro sentire, un po' come quelle parole dei grandi, di, non è invenzione mia, è sempre Vittorio Sermonti che l'ha detto, che ascoltiamo da bambini sotto la tavola della cucina e ci sembrano appunto così lontane, così misteriose, però ci attraggono misteriosamente, chissà proprio per quello sono qualcosa di interessante e qualche volta anche di definitivo. Vi leggo alcuni testi di una nuova raccolta che ho iniziato a scrivere, ne scrivo uno di 10 anni, quindi questo è iniziato adesso, in qualche modo è un investimento per il futuro, Musica per Nei si intitola. Ci sono alcuni testi, il primo è, vediamo se lo trovo, eccolo qua, non vuole aprirsi, ci sarà un perché. Il titolo è Io sono la fame nel mondo, lo immagino sordo, le guerre passate oltre mare, a chiedere quanta vergogna mai avesse provato, non c'è avvio né debito, diceva, chi sei Croce Latina? Erano gli altri i digiunatori, disegna archi sulla spalla, lo fanno sempre dopo l'incidente, si prepara così la sua uscita terrena. Il secondo testo, che in qualche modo orecchia la coda del precedente, è Nella stanza terrena, è un debito, questo a Virgilio, questo sintagma, ed è anche un debito qua con Virgilio, anche il secondo verso, in un arco di boschi. È la notte dei benefici, in un arco di boschi si rubano cavalli sanguinanti, più grevi del cordoglio, sono i farmaci per tutti, e correvi sulle vertebre, al cospetto dei creditori. Il terzo, un po' più lunghetto, poi chiudiamo. Terre di risulta. Perché salvare il fiore con un sollievo che non conosco? Siamo qui, distesi sotto un traliccio che ha nome di morte, a invocare il Dio dei disinvolti. Piove lentamente, sono arrivati i negoziatori, la luce si sfalda accanto alla scrivania, coperta di pelle, e c'è una sbarra di altro materiale, una tenda di polimeri, e l'ascensore graffiato. Si fanno esperimenti, e nulla tocca. Sorgerà poi, dimenticato, cede il pezzo di canino, e dietro si muove un animale. Servono pure a qualcosa l'abitacolo, i ripensamenti, lo stenditoio piegato. Prima di spegnere la nuca, le mani sanno di latte e di sangue, di terra rigata con latte di palma. Allo sposo, la piccola deve una moto. Questi ultimi due versi sono effettivamente un dato di cronaca in una comunità, mi parla di un paese dell'estremo oriente, c'è questa usanza di matrimoni ovviamente combinati, in cui una bambina, una sposa bambina, deve donare una moto al futuro sposo, proprio come impegno, diciamo, di rapporto coniugale, serio e sereno. Vi lascio con un ultimissimo testo, che chiude di fatto questo collage. Il chiodo stomaco. Con te mi siedo sul tappeto, a peso morto, rido della cimice, che punta su di noi l'antenna centrale. Rediamo del prurito alle costole grigie. Hai un volto d'uva, veglio per non deluderti. Poco importa del mondo gettato nell'ozio, quale esatta addizione. Ora nasconditi, vieni a salvarci. grazie. Grazie.